Il tavolo verde del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo con la Regione e l'Associazione di Categoria hanno dato il via libera all'articolo 39 per la vendemmia 2023. Si tratta della regolamentazione dello stoccaggio dei vini, ciò vuol dire che si applicheranno delle restrizioni nella certificazione in modo da valorizzare i volumi di prodotto disponibili. Presidente Nicodemi, possiamo dire obiettivo raggiunto, è stato un lungo lavoro, però alla fine siete riusciti ad ottenere quello che chiedevate? Sì, è stato un bellissimo risultato, un risultato concertato con la Regione e con tutti i sindacati perché la nostra idea è quella di far passare che l'Abruzzo oggi gestisce le proprie produzioni. Quindi non solo i nuovi disciplinari, ma con l'articolo 39 noi cerchiamo sempre di regolamentare quelle che sono le produzioni annuali per tenere sempre in equilibrio domanda e offerta. Una scelta che consentirà, secondo il Consorzio, di ridurre la resa massima per le uve classificabili come DOC Montepulciano d'Abruzzo della Mendemia 2023 e per quelle destinate all'IGT Pecorino. Quasi in questi ultimi anni la nostra produzione è stata superiore ovviamente alla domanda di mercato. Questo ha generato delle giacenze e ovviamente genera anche un crollo dei prezzi. Noi ripeto con l'articolo 39 stiamo cercando di calmierare e di riportare in equilibrio quella che è la nostra offerta rispetto alla domanda di mercato che comunque sia appunto indipendentemente da tutto non è un calo di domanda congiunturale ma è strutturale per questi vini rossi eccessivamente diciamo pacuti, passatemi il termine. Quindi per questo noi stiamo anche cercando di spostare parte della produzione sul cerasuolo, faccio un esempio, che oggi è una delle denominazioni che ci sta dando maggiore soddisfazione proprio per drenare produzione di uve Montepulciano per produrre il cerasuolo. Un plauso va fatto anche alla Regione? Ma sicuramente, l'ho detto prima, è stato un lavoro fatto di concerto fra Regione, Consorzio e ovviamente le sigle sindacali che sono accanto a noi, alla Regione e a tutti i produttori. È stato veramente un lavoro di concerto.